Eccoci di nuovo in diretta qui dallo studio di Barsport e mai come in questo momento potrei dire di splendere e di luce riflessa perché mi trovo in mezzo a due bellissime campionesse e atlete dell'ice skating club Parma con loro naturalmente parleremo dei loro traguardi, loro sono giovanissime ma hanno già ottenuto importanti risultati ora però direi di ripercorrere le tappe di questa società, una storia molto recente di questa nuova associazione sportiva presente nel nostro territorio lo farei con il vicepresidente Bottoni Buonasera a tutti Una società nata nel 2005, quindi pochissimi anni di attività Esatto, ufficialmente la società si è creata nel 2005 Anche se il primo gruppo di fondatori ha incominciato a parlare di questo sogno già nel 2003 quando cominciavano a muovere i primi passi sulle piste del Cerreto piuttosto che sulla prima pistina che c'è stata la pista mobile di Parma Nel 2005 abbiamo deciso di fondare questa associazione sportiva dilettantistica con inizialmente il numero minimo che serviva per creare questa società ma poi nel tempo ci siamo allargati, adesso ci sono parecchi iscritti E come sempre accade questa iniziativa è nata proprio dallo spirito di alcuni appassionati Esatto, alcuni appassionati che volevano portare questo bellissimo sport anche nella città di Parma dove fino a quel momento era abbastanza sconosciuto Diciamo che il patinaggio ha avuto il suo boom dopo le Olimpiadi Invernali di Torino quando tutti si sono incollati al teleschermo per vedere le imprese di Fusar Poli Margaglio e di Carolina Costner e da lì ha cominciato a muovere i suoi passi anche in città dove fino a quel momento magari era una disciplina sportiva bella da vedere in televisione ma non praticata A Parma appunto abbiamo la pistina dell'Otais nel periodo invernale e noi su questa pista abbiamo fatto i nostri corsi di avviamento allo sport li abbiamo fatti sia l'anno scorso che quest'anno e abbiamo avuto una notevole affluenza e anche un buon successo sia da parte dei bambini che da parte degli adulti che hanno partecipato e hanno mosso i primi passi e grazie a questo abbiamo fondato anche una seconda associazione che è l'ice skating starters e che proprio annovera coloro che muovono i primissimi passi sul ghiaccio mentre l'ice skating club Parma annovera gli amatori, gli istruttori, i tecnici e gli atleti che avete visto prima e che quest'anno hanno fatto le loro prime gare ottenendo anche degli ottimi risultati fra l'altro anche abbastanza inattesi visto che lei proprio ha parlato dell'ice skating starters abbiamo qui il presidente Mary Usain allora com'è stare alla guida di questa società tra virgolette satellite potremmo dire perché è un ramo della vostra società primaria si è affiliata al CSI ed è un ramo dell'ice skating club un'altra società l'abbiamo fondata quest'anno e poi sono entrati tanti tanti bambini la prima volta erano mi sembra 54 e poi dopo la seconda volta sono aumentati molto di più e stiamo andando avanti noi speriamo che il comune speriamo che riescono a fare a Parma un palasporto, un palaghiaccio qualcosa di questo tipo ecco proprio a questo riguardo visto che se per il rugby è un'annosa questione quella dello stadio qualcuno potrebbe dire insomma no mettetevi in fila arriviamo sempre lì adesso voglio dire non scavalchiamo il presidente Schirippa allora anche voi avete molto difficoltà non tanto per lo stadio ma proprio per gli impianti in sé vi dovete muovere, spostare, arrivare fino ad Assago a Milano a Bologna, a Reggio Emilia nelle migliori delle ipotesi, vero? sì, noi siamo nomadi sostanzialmente lo siamo stati fin dall'inizio e continuiamo a esserlo per noi è normale organizzare pullman, colonne di autovetture per andare al Cerreto, a Fanano, a Milano dovunque si possono avere fra l'altro ore riservate perché siamo in tanti ci muoviamo in 20-30 per volta e non possiamo andare in mezzo al pubblico a pattinare saremmo di impiccio per il pubblico ma non riusciremo nemmeno a prepararci quindi noi siamo nomadi il problema è che non possiamo continuare a esserlo i nostri atleti non possono allenarsi una volta alla settimana presso altri stadi ecco al momento vi allenate quanto spesso? gli atleti due volte alla settimana quindi devono sacrificare due giorni alla settimana per poter andare in altre città in altri centri quindi noi non possiamo fare i nostri atleti hanno necessità di impegnarsi molto di più ma considerate che tra l'Ice Skating Club e l'Ice Skating Starters ormai girano dai 90 alle 100 persone di tutta l'età bambini e adulti che pattinano per noi diventa veramente impossibile organizzare i viaggi per tutti potremmo organizzare molto di più a Parma tipo squadre di hockey, squadre di sincronizzato molti più atleti corsi perché ce li chiedono a me personalmente a telefono perché trovo il mio numero di telefoni cellulare sul nostro sito e chiamano per chiedere informazioni però a questo punto bisogna arrivare a delle conclusioni noi tiferemo tantissimo per il nuovo stadio del rugby ma chiediamo a rugby che tifi tantissimo per il palaghiaccio di Parma lo sport unito per lo sport noi non possiamo pattinare più ormai nella pista dell'Hot Ice Village per noi è impossibile basta prendere l'aria in corsa e dobbiamo fermarci oltretutto per il nostro livello sulla Hot Ice Village la pista di piazzare i picelli quando vi sono già 4 atleti sono troppi sono veramente troppi quindi non ce la facciamo più questo è il momento di fare un salto è un salto di qualità Parma se lo merita perché ripeto abbiamo tantissime richieste il nostro gruppo di tecnici ma poi lo confermerà anche Elvira Bottoni la nostra allenatrice sta irrobustendosi è il momento noi confidiamo molto anche nel vostro tifo l'assessore Ghiretti secondo me che è molto sensibile segnerà nell'elenco sì ma io ho chiesto anche appuntamento per ricordaglielo benissimo benissimo allora credo che non ci siano problemi perché insomma si sta segnando tutte le sofferenze di Parma e sicuramente segnerà anche la vostra visto che avete parlato di sempre maggiori tantissime persone che vi chiedono maggiori informazioni e avete parlato anche del vostro sito internet diamo l'indirizzo allora il sito internet è www.iceskatingparma.it scritto Iceskating con la K al quale possono rivolgersi anche per avere informazioni possono vedere e sapere in diretta che cosa andremo a fare quali sono i nostri prossimi appuntamenti le nostre trasferte i risultati delle nostre atlete vedere i video e appassionarsi sempre di più a questa bellissima disciplina che non è solo una attività sportiva dura e difficile da un punto di vista fisico e atletico ma è anche bella da vedere perché ha il suo lato artistico le coreografie, i costumi, le musiche che piacciono solitamente al pubblico e quindi